L'esercizio che vi propongo consiste nell'andare ad effettuare la codifica nel linguaggio di programmazione Java di questo diagramma di flusso. Prima di cominciare però, diamo un'occhiata a questo diagramma. Si può osservare che esiste un ciclo, un'iterazione. Quando c'è una freccia come questa che torna su a un certo punto del diagramma, possiamo capire che siamo in presenza di un'iterazione, ossia un'iterazione e un insieme, una ripetizione di un insieme di istruzioni. In questo caso l'istruzione del blocco 5, del blocco 6, del blocco 7, del blocco 8 condizionata al valore di verità o di falsità di una condizione. In altri termini, fin tanto che questa condizione è vera, si continuano ad eseguire le istruzioni contenute nel ciclo. Quando la condizione diventa falsa, si esce dal ciclo e si vanno ad eseguire tutte le eventuali istruzioni che seguono. Osserviamo inoltre che c'è una tabella di dati che accompagna questo diagramma di flusso. I dati utilizzati sono questi, N, NUM, SOMMA, MEDIA, CONT. C'è anche una descrizione di questi dati. N è la quantità di numeri inseriti, NUM è il numero inserito, SOMMA, la somma degli N numeri, MEDIA, la media degli N numeri, E CONT è un contatore del ciclo. Poi vedremo nel dettaglio che cosa serve. Sono tutte variabili, la C sta per costante, ma non ci sono costanti in questo algoritmo. Inoltre, queste variabili sono N, NUM di input, MEDIA di output, mentre la SOM e CONT sono variabili di lavoro o variabili temporane, comunque variabili che non, i cui valori non vengono acquisiti in input, non vengono prodotti in output, ma sono utilizzate per contenere dei dati, dei valori intermedi utili per poi raggiungere i risultati attesi. Inoltre, ogni variabile ha anche un tipo associato, cioè l'insieme dei valori che la variabile può assumere. Le variabili in questione sono tutte di tipo primitivo, sono interi e double. Inoltre, sono indicati qui, in questa colonna, i valori iniziali delle variabili. È sempre necessario assegnare un valore iniziale ad una variabile? No, non è sempre necessario. Diciamo che ci sono delle situazioni in cui serve, altre in cui non è richiesto. Bisogna però aver ben presente che una variabile come quella che stiamo vedendo qui non ha mai un valore iniziale predefinito, ma il valore, se non gliene assegniamo uno noi, è undefined, indefinito. Quindi bisogna fare attenzione perché se cerchiamo di usare una variabile undefined in una espressione, questo genera un errore. Prima di iniziare la codifica può essere utile capire che cosa fa questo algoritmo, anche se il fatto che ci sia una media già ci fa comprendere che molto probabilmente si tratta di un algoritmo che determina la media di numeri. Però cerchiamo di capire nel dettaglio come funziona. Questo lo possiamo fare con una simulazione manuale del codice, del codice, scusate, dei vari blocchi dell'algoritmo. Allora, in un foglio di calcolo, ma voi potete usare qualunque altro documento, non ha importanza, vado a creare queste colonde dove ho nella prima colonna il blocco, ossia uno dei numeri che compaiono qua vicino i blocchi, per indicare qual è il blocco in esecuzione. Poi ho tutte le variabili che sono riportate in questa tabella, più una colonna per contenere il valore di verità della condizione testata, vero o falso, più una colonna dove posso andare a scrivere l'output. Inizialmente, in fase di dichiarazione, queste variabili hanno tutte valore 0, per cui, qua nel blocco, diciamo non esiste un blocco, ma in fase di dichiarazione, queste variabili hanno tutte valore 0. Quindi 0, 0, e così via, fino a COMT. Andiamo ora a eseguire il blocco 1. 1. È un'istruzione di output che visualizza sullo schermo dell'utente la frase immettere la quantità di numeri di cui calcolare la media. Quindi, a breve, qui in corrispondenza di questo blocco, il blocco 1, avrò in output in mettere eccetera, eccetera. Eseguiamo ora il blocco 2. Si tratta di acquisire in input il valore immesso dall'utente e inserirlo all'interno della variabile n, cioè assegnarlo alla variabile n. Ora, che cos'è n? n è la quantità di numeri inseriti, per fare una cosa breve, supponiamo che i numeri inseriti siano 2, quindi vado a, suppongo che l'utente abbia inserito il numero 2, e vado quindi a scrivere in corrispondenza nel blocco 2 variabile n il valore. Il blocco 3 assegna alla variabile cont il valore 1, quindi andiamo qui nella colonna cont, e mettiamo il valore 1. Ora, il blocco 4 è la condizione di terminazione del ciclo. Quindi, ci chiediamo il valore di cont è minore o al più uguale a n? Andiamo a vedere qui. Allora, cont, il valore corretto di cont è sempre quello diciamo che si trova nella riga più in basso, perché il valore precedente è stato sovrascritto dall'ultimo valore che abbiamo assegnato alla variabile. Quindi, cont vale 1, n vale 2, quindi la condizione è vera, per cui qua vado a scrivere vero o true. Con il blocco 5 viene prodotto in output immettere il numero, quindi di nuovo immettere il numero, eccetera, eccetera. Con il blocco 6 invece andiamo ad acquisire questo numero in input, immesso in input dall'utente e lo mettiamo dentro la variabile num. quindi blocco 6 l'utente ha inserito un numero, supponiamo che il numero inserito sia 10, andiamo ad assegnarlo alla variabile num. Num si trova in questa colonda, quindi num vale 10. Il blocco 7 contiene sempre un'istruzione di assegnazione a somma viene assegnato il risultato dell'espressione somma più num. Quindi l'assegnazione viene eseguita sempre in questo modo, prima si valuta ciò che c'è a destra dell'uguale, l'espressione a destra dell'uguale e il risultato lo si va ad assegnare alla variabile che è posta a sinistra dell'uguale. Quindi andiamo a vedere quanto vale somma. Somma vale 0. Quanto vale num? Num vale 10, quindi 0 più 10 da 10 e questo valore lo andiamo a assegnare a somma. Quindi adesso somma vale 10 dopo questa istruzione. Il blocco 8 va ad aggiungere 1 alla variabile CONT e poi assegna il risultato di nuovo alla variabile CONT. Quindi prendiamo CONT CONT vale 1 aggiungiamo 1 quindi diventa 2 e assegniamo questo valore sempre alla variabile CONT quindi CONT diventa uguale a 2. Adesso seguendo queste linee dobbiamo tornare su a testare nuovamente la condizione al blocco 4 quindi siamo nel blocco 4 nuovamente e ci domandiamo CONT è minore o uguale a n? Andiamo a cercare il valore corrente di CONT e questo è il valore corrente 2. Quanto vale n? Il valore di n è questo, 2. La condizione quindi è vera perché CONT non è minore di n ma è uguale e quindi è vero. quindi qua vado a scrivere di nuovo TRUE e continuo quindi ripeto di nuovo l'istruzione 5 chiediamo all'utente di inserire il numero in mettere NUM sto abbreviando naturalmente dopo di che si passa all'istruzione 6 che acquisisce il numero in input supponiamo che l'utente inserisca il numero 2 e pertanto dentro NUM finisce il valore 2 il blocco 7 andiamo a calcolare SOMMA più NUM allora SOMMA valore corrente 10 il valore corrente di NUM è 2 10 più 2 12 questo valore viene assegnato alla variabile SOMMA quindi qui vado a scrivere il nuovo valore di SOMMA siamo al blocco 8 andiamo ad aggiungere 1 al contatore quindi incrementiamo il contatore di 1 il valore corrente di CONT è 2 aggiungendo 1 diventa 3 e assegniamo il risultato di nuovo alla variabile CONT torniamo su alla condizione del ciclo e ci chiediamo se il contatore è minore o uguale a N il contatore ha valore 3 N vale 2 e quindi la condizione è falsa per cui usciamo dal ciclo e andiamo ad eseguire il blocco 9 quindi la condizione è false andiamo al blocco 9 a calcolare SOMMA fratto N SOMMA vale 12 N è sempre 2 12 diviso 2 è 6 il valore il risultato di questa espressione lo assegniamo alla variabile media quindi media diventa uguale a 6 siamo arrivati qui nel blocco 10 è un blocco di output dove vengono visualizzati prodotti in output la stringa media seguita da un uguale e poi questa virgola indica che questo output è costituito da due parti una parte è una stringa e l'altra parte è il valore della variabile media quindi media che vale per noi 6 quindi media uguale a 6 sarà l'output restituito il tipo di ciclo che abbiamo preso in esame con questo esempio è un ciclo che ha una condizione in testa quindi è un ciclo detto precondizionale in più ha anche un'altra caratteristica non solo è precondizionale ma è concontatore quando si dice ciclo concontatore si intende che noi sappiamo già in partenza quindi a priori il numero di iterazioni che saranno eseguite infatti lo chiediamo all'utente è proprio l'utente che ci dice quanti numeri verranno inseriti quindi quanti numeri dovremo andare a sommare per poi calcolare la media passando al codice qui c'è la classe media questa è l'istruzione che ci permette di definire la variabile console con la quale possiamo effettuare l'input standard da tastiera dichiariamo le variabili che sono contenute dentro questa tabella allora sono n num somma e cont sono di tipo intero quindi davanti metto la parola chiave int e al termine un punto e virgola inoltre se voglio dare loro un valore iniziale pari a zero posso farlo proprio qui in fase di dichiarazione ok nel blocco 1 abbiamo un'istruzione di output quindi system punto out punto println è l'istruzione che ci permette di produrre in output qualche cosa in questo caso la stringa immettere la quantità di numeri eccetera va bene così e nel blocco 2 acquisiamo il dato inserito da tastiera dall'utente e lo mettiamo dentro la variabile n quindi n uguale console punto next vediamo il tipo di n che è un int quindi useremo next int per leggere il dato e convertirlo in intero perché tutto ciò che viene inserito da tastiera è sempre una stringa quindi occorre fare poi una conversione di tipo in questo caso in intero il blocco 3 assegna alla variabile cont 1 quindi scriveremo semplicemente cont uguale 1 punto e virgola ecco qui invece il blocco 4 dove inizia il ciclo allora questo ciclo si può codificare con lo statement while poi tra parentesi tonde andiamo ad inserire la condizione cont minore uguale n cont minore uguale n poi apriamo una parentesi graffa e andiamo poi a chiudere la parentesi graffa qua dove termina dove il ciclo torna su dove questa freccia torna su quindi dopo il blocco 8 per il blocco 5 è sempre una system.out punto println dove invece di mettere la quantità di numeri scriverò in mettere il numero e il blocco 6 è sempre un'istruzione console.nextint perché andiamo a leggere num che abbiamo supposto sia un intero quindi devo solo scrivere qui num al posto dn la codifica dei blocchi 7-8 è banale basta scrivere quello che c'è dentro il rettangolo quindi somma uguale somma più num e per il blocco 8 cont uguale cont più 1 è possibile utilizzare delle istruzioni abbreviate che vi scrivo qui come commento al posto di somma uguale somma più num si può scrivere somma più uguale num è la stessa cosa e qui possiamo scrivere cont più più per indicare l'incremento di 1 ora siamo usciti dal ciclo abbiamo ancora il blocco 9 da codificare un'assegnazione a media di somma fratto n e il blocco 10 che mi dà errore perché avevo dimenticato di dichiarare la variabile media che non è di tipo intero ma è di tipo double quindi dichiaro la variabile media qui dopo gli interi o anche qui volendo è indifferente l'importante è dichiararla prima dell'uso double media uguale 0 dopo un po' di tentativi sono riuscita a scrivere media adesso passo al blocco 10 che è un'istruzione di output quindi copio e incollo e vado a modificare solo quello che mi interessa ora devo produrre in output la stringa media quindi qua scriverò media uguale lascio un po' di spazi e per andare a specificare anche la variabile media deve usare l'operatore di concatenazione di string che in java è il più non è l'operatore di addizione ma è l'operatore di concatenazione di string quando applicato ad una stringa e ad un'altra variabile eseguiamo eseguiamo il codice allora in mettere la quantità di numeri inserisco 2 poi il numero avevamo detto 10 e poi 2 e la media è 6 facciamo un'altra prova inserisco inserisco sempre due numeri il primo è 9 e il secondo è 2 e la media è 5 però 9 più 2 è 11 quindi il risultato dovrebbe essere 5,5 e non 5 come mai questo risultato? la spiegazione è qui somma ed n sono di tipo intero in java quando noi applichiamo questo operatore di divisione a due variabili di tipo intero il risultato è sempre intero quindi non riesco ad ottenere il quoziente esatto per poter ottenere il quoziente esatto devo applicare il cast almeno ad una di queste due variabili come si fa? basta mettere davanti a somma il tipo double in questo modo la variabile somma viene che è un intero viene promossa a tipo double e in questo modo il risultato dell'operazione sarà di tipo double verifichiamo due numeri il numero 9 il numero 2 e come potete notare adesso il risultato è corretto cioè il quoziente è il quoziente esatto c'è un altro modo per codificare questo diagramma di flusso che abbiamo visto siccome si tratta di un ciclo concontatore in una situazione come questa possiamo usare un altro statement che è più compatto lo statement for le modifiche da portare sono le seguenti allora il blocco 3 sparisce non serve più inizializzare il contatore fuori dal ciclo si scrive for poi da parentesi tonde ci sono tre argomenti il primo è l'inizializzazione del contatore quindi cont uguale 1 in questo caso per cui il blocco 3 lo tolgo punte virgola segue la condizione di terminazione del ciclo quindi questa cont minore uguale n quindi ovvio adesso il while sparisce e come terzo argomento mettiamo l'aggiornamento del contatore parlo di aggiornamento perché in questo esempio abbiamo un incremento ma in generale possiamo avere una qualunque operazione di aggiornamento del contatore quindi vado a cancellare questa istruzione e qui scrivo cont più più posso anche scrivere cont uguale con più 1 ma solitamente si preferisce questa forma più compatta metto la parentesi graffa che contiene le istruzioni necessaria perché altrimenti se non metto la parentesi graffa verrà eseguita solo una istruzione nel ciclo e a questo punto ho fatto quindi ho riscritto ho scritto un codice che esegue lo stesso che effettua lo stesso tipo di operazioni ma utilizzando un altro statement che è da impiegare solo disclusivamente quando noi sappiamo a priori il numero di iterazioni da fare ed è più comodo perché è più compatto ma nessuno ci vieta di utilizzare al posto del for while come sempre il codice è allegato a questo video e si trova nella descrizione